Un argomento assai spinoso per una puntata speciale. La puntata pasquale di Agorà, andata in onda in via eccezionale di giovedì invece che nella canonica programmazione del venerdì sera, si è occupata di Agroverde e del tanto discusso progetto Il Ciliegino. Quello che doveva essere in embrione il più grande parco agrofotovoltaico d'Europa e che invece si è trasformato nel più grande blef della storia moderna di Gela. Una idea di sviluppo economico ed occupazionale alla quale si erano riposte le speranze di tanti gelesi e che nei fatti è invece diventata un incubo per molti. Per coloro che pensavano di avervi trovato un posto di lavoro sicuro, per le aziende che avevano investito risorse economiche e prospettive future, per gli ignari proprietari terrieri ai quali è stato espropriato forzosamente un pezzo della loro vita e che ad oggi si ritrovano ancora con un pugno di mosche in mano. E dire che all'inaugurazione di quel cantiere, oramai quasi quattro anni fa, sul palco delle autorità salirono in tanti, come sul classico carro dei vincitori, a decantare proclami e a lanciare inutili promesse. Politici che, alcuni sono stati già pesantemente puniti dagli elettori delusi ed altri lo dovranno ancora essere. Politici bravi a salire sul palco nel momento dell'esaltazione e che sono poi letteralmente spariti quando bisognava metterci la faccia per salvare il salvabile. Neanche un cenno per chiedere scusa ai cittadini gelesi, ancora una volta traditi dai loro stessi rappresentanti. Da coloro che erano stati votati per difendere il territorio e che invece lo hanno svenduto al miglior, in questo caso peggior, offerente. Agroverde dunque, come emblema di una città tradita dai propri politici. Ma si potrebbe chiamare pure vicenda Eni, o vicenda Caltacqua, o vicenda Tecra. Insomma, storie diverse ma uguali, legate tra loro dallo stesso unico denominatore comune, ossia interessi della città mandati alla Malora per arricchire qualcuno e politici traditori che svendono la propria terra per un piatto di ceci. Se n'è parlato ieri sera nella puntata speciale di Agorà, andata in onda di giovedì, in studio con il conduttore, il sindaco di Gela, Domenico Messinese, e l'assessore al bilancio, Fabrizio Morello. Poi il consigliere comunale indipendente, Giovanni Panebianco, che dopo un lungo periodo di silenzio su questa scabbrosa vicenda, ha sollevato nuovamente il lenzuolo su Agroverde con una interrogazione in consiglio comunale. Quindi l'avvocato Guglielmo Piazza, che cura gli interessi dei proprietari espropriati e vessati, ed infine l'ingegner Fabrizio Lisciandra, che in quanto esperto in fonti di energia rinnovabile, ha seguito passo passo, sin dalla sua genesi, la vicenda del progetto Il Ciliegino. In apertura di trasmissione è intervenuto telefonicamente da Roma il vice sindaco Simone Siciliano, che ha annunciato dal salotto televisivo di Agorà che finalmente si sono sbloccate le autorizzazioni ministeriali per dare il via ai primi cantieri delle bonifiche sul sito Eni e per i lavori della mantellata del porto industriale. Notizie queste che daranno, a breve, respiro alla grave crisi occupazionale di lavoro che esiste in città. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agorà potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domenica sera alle ore 21, oppure attraverso i nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it ed il profilo di Facebook di Canale 10. Agorà tornerà regolarmente in diretta venerdì prossimo, in prima serata, come sempre con ospiti ed argomenti che riguardano Gela e Digelesi. La redazione e lo staff di Agorà augurano una serena Pasqua a tutti i suoi affezionati telespettatori.